Il motore al massimo Via Grecis con la sciolta Quanta All'esterno Quindi Quindi Anche Grecis Romenina del bar Che ce la fa Vediamo la contromossa Si appoggia Che mantiene in comando Ma attenzione Grecis Adesso gli scappa al posteriore In terza posizione Wanderputen, Rubi Lì ci si Allo Slavosek a chiudere Grandissime ruotate Tra Grecis e Hannigan E adesso però Nicodem Vuole farsi valere Ma Luca che piappe In fila Grecis E va alla caccia di Hannigan Ritmo di amorato Quello di Nicodem Autore di una partenza piuttosto Adesso si sta veramente lanciando All'inserimento Senza Minimo dubbio Minimo paura Già conquistato La seconda posizione Adesso vedremo Però forse Un attimo di esitazione All'uscita del Curvone Ind 76 E' di sigmo Un passaggio Lascia aisle Un riscopter In giro Tanto Nicodem Stai avvicinando al pilota tedesco che lo precede grande traversata per tutti i piloti nel tornandino riesce molto veloce Nicodemma altrettanto facilmente è uscito a rispuzziare l'attacco del pilota della Repubblica cieca adesso però Nicodemma è vicinissimo il pilota della Repubblica bellissimo sorpasso è stato un errore in realtà piccolo quello di Angelema Nicodemma ha approfittato la grandissima e adesso è lanciato 4,44 1,44 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 43 488 il suo tempo davanti a Marianne stacco dalla frizione box davanti a tutti grande partenza del pilota che parola si fa rimane fermo oh dritto davanti Kubitschek box Kuiperz Giordak Tenier e Kulikowski e ecco con il 21 e poi l'Italia è realizzato per il francese ricordiamo anche lui per il campionato europeo tanto problemi per Tenier che va al piccolo trotto intanto 50 50 50 70 Giorda che intanto è all'attacco di Cooper per la terza posizione, è lo stesso Cooper sta cercando di rimontare sul box mentre Kubicek sembra avrà preso qualche metro due secondi e due subiani sposti, poi due per Spolkowski, teni feiare giorno a canale È stato vogliare impegnate per una spectacular ricotta, Insegriando lo Poliziere del setting e finché diviare la gorgata di seconda, diviare la gorgata di servizio mensilare E poi Nelisburi persa. E poi Nelisburi persa. E poi Nelisburi è avventato due costi. E poi Tegnè e Feyart. Con Feyart che è impegnato in una disperata rimonta. Grande intanto la curva di Feyart che va a sorpassare. Siamo fatta sorpassare Feyart. E che spettacolo. Alla grande, la bella Feyart. La giornata centrale. La giornata centrale. E poi nel sorpasso giorni Feyart. Tornata centrale. Intanto Jakub Kulczek continua nella sua strana. Non è mai già quasi pronto a tagliare evidentemente l'altra guarda. Mentre prosegue una grande battaglia. Tanto Feyart è riuscito a superare anche Kulikovskis. Grande prova di Feyart e rimonta. Oh, dietro, dietro, dietro. Ho superato Gianni Sblox. Anzi terzo Gianni Sblox. Sono partiti tutti e tre. Pari, 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 vediamo che. All'esterno. Masse. Sblox. Ottacar Biborni. Evidentemente molto suonaggio anche sui superbike. A comando. Dietro di lui. Flur Tafani. Albers. Kovac. Calotta. Farto c'è pensato. e allora le spalle 40 famiglie sicuramente non vorrà rimanere lì attenzione anche alla guida spettacolare di William Anders si le fiamme giallo bianco super maghi di 8 carpi porni da franì sempre più vicino adesso esce mazzanza largo dal tornantino Anders va a toccare il terapiero questa abitudine Anders sta cavando la pista sta cavando la pista ma intanto davanti a tutti ancora c'è lui nota carpi porni da franì che sta cercando forse la per la chiesa di farà facile questo è pronto il distacco la chiesa di farà perché è furbo lui approfitta sempre di qualsiasi spazio sempre di aspettando il momento fortuna per buttare un attacco di pomeriggio intanto vediamo fermo Tino semezzato che senza una ruota se non sbaglio bisogna rotolare sulla parte d'asfalto peccato davvero non dovrebbe essere una posizione pericolosa ma attenzione Tapanì che è sempre più vicino a toccare porni che sta insediato la terza funzione grande lotta all'esterno del rumore attenzione Kovac si prova a sfiancare a opini alters ma i cavalli a catinelle del baratta di cavalli a catinelle attenzione intanto perché Tapanì a questo punto proverà tutto per tutto ecco l'attacco Tapanì non bella non c'è la potenza si 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 Tutto pronto, Renzo Reis, abbiamo l'Inkubicek, Albers, attenzione Albers, vediamo se ne combino una delle sue rete. Albers, Artafander, Putten, Legis, The Will. La ricroccio del Vida, la curva centrale, monta! Si girano con gli Arter, porta la seconda torsione, avanti ed è la terza. Questa è bello, però. Eh, mio. E adesso il tetto! L'Inkubicek! Oh, appostato! Si sono fermati! Adi Porni! Pronto! C'è anche un bug in mezzo, ma sì! Pronto per Willy Albers! C'è qui, fermo in mezzo, profettorio, Rubi! Albers è fermo! Abattona, abattona, Albers! Lui è riuscito a uscire, ma numero 11, Rubi è fermo in mezzo alla pista. Quindi dovranno sventolare adeguatamente le bandiere. aeree, aeree, aeree... E' un grande traffico di 3-2-1! Uhhhh! 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 Ohhhh Eh ma che casino Anche il pubblico è sentato a terra pieno Prendo a prendo e ho preso a terra pieno Esatto adesso però abbiamo Hai capito ma non c'è più la strada Non le passano Si può entrare Forse solo all'esterno Adesso Guarda che è arrivato qui Il bravo adesso Vai E prendere il passaggio qua E prendere il passaggio qua Tutti pianissimo Sanno che c'è un disastro Passa in mezzo Ok tocca Dici stocca la macchina di Wanderputen Vabbè Vabbè Il B4L resiste in prima posizione Il B4L resiste in prima posizione Lì c'è il Invece per il seguimento di B4L Sempre più complicata la situazione all'ingresso del Della curva del bar Della curva del bar Ora voglio vedere dove passano Sono molto vicini E qui ancora peggiore la situazione Si devono quasi fermare praticamente più vicino In questa ruota Però fortunatamente Ormai hanno capito qual è il punto giusto In cui Poter superare questo Stacco Un po' di difficoltà Anche se ormai Siamo quasi pronti alla chiusura Anche di questa Race La bandiera a scacchi Sventola Per Otacar Ferma Oh Fiamme 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 Andiamo a vedere subito, si fa subito a sotto, si fa a sentire. Perderà anche la seconda posizione, ma riesce al momento a mantenerla. Non l'ha fatto sconti e si è narrato, si è preso un po' di margine. Impressionante, come c'è la rotazione del mare, si funziona nella curva centrale. Impressionante, come c'è la rotazione del mare, si può essere una rotazione del mare. Impressionante, come c'è la rotazione del mare, si può essere una rotazione del mare. Follissima, l'abbiamo visto anche ieri. Abbiamo un problema per Colace. Abbiamo un po' di margine. il ritmo Capo Pia, adesso con la squadra vi faccio qualcosa e anche qui ci sono stati girato pericolosamente si ha armato a posteriore a destra si ha armato a posteriore a destra intanto...mico a destra un miglior giro in minora ma la bocca su Regis si ha armato a posteriore a destra la centrale non prenderà in maniera divina adesso lo so, ragazzi, se avete notato che si dita la terra un po' di fuoco si, io ho visto mi sta asciutando il territorio ah, se c'è un po' largo ah, largissimo parto, ci perde tempo nella curva centrale tanto guarda eh qua c'è la che sta mantenendo sempre lentamente la che sta mantenendo il passigno è stato bello mi intendo... un giro in minora è la 397 non vede il vantaggio non mi piace più la vera miglia però... io non ci sono ordini per il pilotta la pubblica cieca con su che era il metroposo è già pronto e' un'ecro il... tra 4 Paglia scacchi per 23.000 43.50 351.302 Il tempo totale è il secondo Erwin Grecis 4.01 3.758 Quindi anche il sacco è il suo Il turista è acceso, attenzione notte il semaforo Partiti Parte benissimo Johnny Feignat Ha un altro Attenzione Taffanini a curva centrale Vediamo se riesce a avvicinarsi Girono tutti molto stretti Niente da fare Quella è sempre vivo Come? Bevissima Lotta tutta francese per la prima posizione Feignat amanti seguito da Flou Taffanini E' sicuramente il muscoli Quante si sembra che il faiato ha preso un tirico di stacqua E' ancora fermo Il faiato della curva centrale Vediamo se riesce a ripartire Sì, riparte Intanto Johnny Feignat 44.11 C'è 47 Ancora no La fai di sembra che si è avvicinato un po' Vediamo Ha preso qualche metro Ma non c'è la palla Attaccare Per la prima posizione Tanto grossi problemi Per dire se è ventato Fa fatica Sta andando al piccolo trotto Guarda che si è avvicinato un po' 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 la produzione è bruttissima il servizio è tornato fuori dal traiettorio del refitto orientale vediamo a voi poi andiamo avanti tappanile, si sembra un pochino più distante rispetto al giro precedente si, ho preso qualche metro vediamo questo intanto Giordak trova l'attacco ma non ce l'ha fatto avvicinarsi ma non ce l'ha fatto avvicinarsi un bel secondo chi l'ha fatto avvicinarsi eccolo qua sta per comparire proprio lui Gianni Fayad davanti a Florant Tappanile vediamo di stacco due secondi e cinque di stacco per Tappanile quindi ha perso il prezzo perchè è accettato il punto fa partire già la TV attenzione la sfida davanti a Tappanile Nicodem sembra partire meglio Tappanile ma lo spunto finale Nicodem in terra Nicodem seconda posizione per la Flo a quel punto attenzione il punto qua della che è venuta che è venuta uscita la S è stato CG Runners e ci rimette se ne è rinforzato Tappanile è rimasto in giocato in partenza è riuscito a ripartire in ritardo e lo vediamo in ultima posizione avvicinarsi comunque quindi anche su che sta andando da tutte le parti perchè sta a dritto Nicodem comando attenzione sempre già a scappar via a 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 peccato mamma mia a 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